L'appuntamento per scoprire il valore del mito in un'epoca che sembra così lontana da tali contenuti è la scelta controcorrente messa in campo dalla gran loggia d'Italia degli Alam. Lunedì 29 agosto, presso il Montreva Resort di Taranto, la seconda più grande obbedienza massonica italiana, ha organizzato un convegno dal titolo Il mito nell'era social, tra pensiero filosofico e tradizione iniziatica. Con inizio alle 19 la conferenza avrà quale ospite d'eccezione il giornalista, scrittore e filosofo Marcello Veneziani, che già nel 2016 ha pubblicato il libro Alla luce del mito guardare il mondo con altri occhi. Ad affiancare veneziani il gran maestro giunto della gran loggia d'Italia, Paolo Maggi, introdotti da Gianfranco Antonelli, delegato magistrale della regione massonica Puglia. A pochi mesi dall'inaugurazione della nuova sede nel cuore della Borgo Umbertino, la gran loggia d'Italia ha scelto di porre la cultura al centro della propria proposta, sotto la guida del gran maestro Luciano Romoli. Il meeting si avvale dell'organizzazione del gran ispettorato di propaganda della regione Puglia, guidato da Salvatore Perillo. L'ingresso è libero, senza necessità di prenotazione.